Radio W0, Radio W0, suona ciò che ami, più suona e più la ami. Non a caso è un'operazione editoriale, un progetto editoriale che viene da lontano, viene dalla mia volontà di contestualizzare le storie delle vittime delle mafie pugliesi nel loro territorio, in quello che è accaduto, e raccontare che queste persone sono morte in Puglia o altrove, non a caso, non perché sono state uccise casualmente, ma perché in quei territori c'era la mafia. E quindi da qui il titolo ed il progetto. E in seguito poi c'è stata la scelta di affidare il racconto ad alcuni autori che si sono prestati gratuitamente a donarci un contributo e che hanno offerto un racconto, una ballata, una sorta di filastrocca che racconta la vittima. Questa accompagniamo una scheda in cui la vittima è raccontata in maniera oggettiva in base a quelli che sono stati fatti accaduti. Il messaggio è portate con voi il libro, compratelo, si chiama Non a caso, edizioni La Meridiana, lo trovate in tutte le librerie, non solo in Puglia ma anche fuori, racconta la nostra storia. Sentite questo libro vostro, appropriatene. Radio 00 Suona ciò che ami, più suona e più la ami.